secondo me siccome sono tre o quattro giorni che non fa altro che passar militari che vanno alla finta battaglia questo qui lo deve aver smarrito di certo qualche uffiziale perché lo so quei signori ci ambiscono a tenere questi animali buffi ma guardi com'è effettuoso io lo terrei magari per me ma è proprio un peccato che non abbai punto perché io sul barroccio ho bisogno di tenerci un cane che quando si accosta gente si faccia sentire se no addio la mia roba l'avrebbe a pigliare lei vede e a lei glielo do volentieri anche per nulla così mi diceva una mattina pasquale il barrocciaio che incontrandomi per la strada aveva fermato il mulo per mostrarmi un bel cagnolino da lui trovato la sera avanti sul greto dell'arno mentre era per buttarsi nell'acqua e traversare il fiume guado io lo prenderei tanto volentieri risposi perché dopo essere stato così festoso è anche di una razza molto rara ma che vuoi fra grossi e piccini se no cinque per la casa e non ho voglia davvero di mettermi dintorno un'altra di queste seccature qua mi rincresce a lei signoria glielo avrei dato di molto volentieri ti ringrazio pasquale andiamo e dunque mi comanda nulla lei di lassù se vedi il son luigi e il son roberto salutami di tanto non pensi sarà servito arrivederlo signoria la giovanni la si è fatto tardi e accompagnando con una frustata queste ultime parole che erano rivolte al suo mulo si allontanò quello che segue lo seppi qualche giorno dopo circa due miglia lontano dal punto dove c'eravamo lasciati pasquale trovò da esitare il cane per una dozzina di carciofi a una famiglia di contadini che stavano lungo la via maestra concluso il contratto con la consegna del cane da una parte e dei carciofi dall'altra il capoccia chiese al barrocciaio dico bene o come si domanda egli quest'animale io lo chiamavo pillacchera perché quando lo trovai era più l'ercio del fruciandolo del forno ma se poi questo nome non vi garbasse e allora si chiamerà pillacchera anche noi to pillacchera to e il canino corse a leccare la mano del nuovo padrone che lo menò in casa il povero pillacchera non dette nel genio al resto della famiglia e anche lo stesso capoccia dopo il mezzogiorno aveva già cominciato a lavorare di pedate alla sua usanza perché l'aveva visto ricusare un pezzo di pan nero e non aveva voluto abbaiare dietro al calesse del fattore ai giovani non piacque perché quando si doveva prendere un cane dissero loro era meglio prenderlo da caccia la massaia poi era implacabile con quella dozzina di carciofi attraverso l'anima diceva che cani a quella maniera non aveva mai visti ma soprattutto poi quel pelo lungo che gli nascondeva affatto gli occhi era per lei qualche cosa che non le voleva andar giù in nessuna maniera pillacchera passò la giornata fra il dolore di una pedata e la paura ad averne un'altra finalmente sulla sera la famiglia si radunò tutta in cucina per la cena dopo aver messo a tavola il tegame della minestra la massaia s'accostò al capoccia che stava pensieroso nel canto del fuoco e gli disse in tono burbero all'orecchio o voi l'avete preso l'ulivo benedetto perché farne a voi e tenetevelo addosso vecchio grullo e datene una foglia per uno anche a quei ragazzi si mise la tavola a serie e molto sospettosi serrandosi l'uno addosso all'altro perché ormai col calar della sera sarà fortemente insinuato nell'animo di tutti il dubbio d'essersi messo le streghe in casa masticavano scongiuri faceva incorna ad ogni momento e pareva loro mill'anni da arrivare in fondo alla cena per dire il rosario in un momento di silenzio pillacchera che sarà rintanato sotto la madia stimolato dalla fame uscì di là sotto ad agio ad agio e inosservato e cercando forse di mettere a profitto una delle sue abilità per intenerire i nuovi padroni si mise in mezzo alla stanza ritto sulle gambe di dietro un grido straziante uscì dal petto della massaia tutti impallidirono e quasi fuori di sé si precipitarono spaventati facendosi segni di croce urlando misericordia verso un croce fisso che pendeva da una parete della stanza pillacchera rientrò spaurito sotto la madia animo angelo disse il capoccia al maggiore dei suoi figliuoli io con quell'animale in casa la nottata non la passo fanne quel che ti pare ma levamelo di lì angelo non rispose il capoccia che intese di che si trattava replicò se hai paura piglia con te chi ti pare ma levami quella bestia di casa se no mi danno angelo legò il cane con una cordicella e s'avviò strascinandoselo dietro verso l'uscio fra le imprecazioni dei rimasti mentre la massaia non trovando altro che le venisse alle mani o forse mettendoci qualche importanza antidiabolica si levò uno scarpone di vacchetta e lo tirò con tanta rabbia contro il povero pillacchera che lo ridussa ad allontanarsi zoppicando e mandando lamentosi guaiti angelo e il suo compagno tornarono presto e con aria molto soddisfatta la cena fu terminata tranquillamente ed il rosario cotesta sera fu detto di 15 poste il giorno di poi su tutte le cantonate del paese vicino si leggeva quest'avviso 400 lire di cortesia a chi riporterà al comando militare una cagnolina maltese di pelame bianco finissimo che risponde al nome di perla oltre alla detta somma colui che la riporterà avrà diritto alla imperitura gratitudine del proprietario passarono tre giorni e nessuno comparve al comando militare intanto nella famiglia dei contadini dopo che ebbero saputo dell'avviso seguirono violentissime scene che dettero poi motivo al padrone di licenzarli dal podere e dalla massaia di convincersi sempre più che il diavolo in forma di cane era stato in casa sua quello stesso giorno fu feduto un colonnello d'artiglieria per correre ansante le vie del paese parlare concitato con pasquale e dopo poco con aria lietissima entrare con lui in un legno di vettura e prendere con lui la via della campagna il vento della mattina impregnato del profumo dei fiori di mandorlo si divertiva ad arruffare i folti baffi del colonnello tutto a buon umore offrendo a pasquale un sigaro d'avana gli domandava che è molto distante neanche quattro miglia in una mezz'ora siamo lassù e l'avranno sempre loro ne siete proprio sicuro perdi in cibacco o che nanno aver fatto in un trasporto d'allegrezza il colonnello abbracciò pasquale e parlò dell'affezione di sua figlia per la piccola perla e dello stato di disperazione nel quale da tre giorni si trovava lodò il sistema toscano della mezzeria e parlò con entusiasmo dell'indole mite e dei costumi semplici e patriarcali dei nostri contadini il cavallo intanto divorava la via trotto serrato e dopo poco di sopra ad una svoltata secco della strada dalla quale si dominava la vallata pasquale gridò eccola laggiù chi domandò con impeto il colonnello la casa dieci minuti dopo erano già arrivati il colonnello tira fuori il portafogli perché era impaziente di ricompensare così diceva lui quelle buone creature saltò dal legno e tutto lieto corse incontro alla massaia che era comparsa arcigna sulla porta dopo che ebbero scambiato fra di loro poche parole la massaia rientrò in casa brontolando e voltandosi indietro a squadrare sospettosa il colonnello che immobile taciturno era rimasto a guardarla con le braccia incrociate sul petto pasquale che aveva osservato attento quella scena scacciando le mosche al cavallo io del cielo gridò a un tratto spaurito o che è stato queste buone creature esclamò il colonnello con angosciosa ironia queste buone creature e stringendo convulsamente il portafogli tornò frettoloso alla vettura la povera perla sotto il nome di pillacchiera già da tre giorni dormiva accanto alle radici di un olivo con la testa fracassata da un colpo di vanga in quella casa ora ci si sente e nessuno degli intorni s'azzarderebbe a dormire solo in una certa camera nemmeno per tutto l'oro del mondo ecco nelle cause dopo quel fatto ogni volta che un cane passava davanti alla casa del contadino tutti gli uomini li erano dietro per prenderlo ma per qualche tempo fu possibile d'agguantarne nemmeno uno finalmente uno si lasciò prendere ma con gran fatica e dopo aver addentato ripetutamente il capoccia alle gambe e alle mani costui aspettò ansioso il desiderato avviso sulle cantonate ma comparve invece un certo malarello che in tre giorni lo mandò nel mondo di là senza che nemmeno al priore potesse riuscire di fargli prendere l'ostia consacrata neanche nell'acqua capisce mi diceva pasquale con gli occhi stralunati dallo spavento neanche nell'acqua dio del cielo ci fu verso di fargliela ingozzare e quando la vedeva mugli che pareva un lionfante arrabbiato oh senta beh il dottore è padrone di dire quel che gli pare piace ma quello lì e giocherai la testa è morto le succi liberi tutti dannato